Paese cacciavite. Sarebbero tante cose da dire nei tempi televisivi, però visto che siamo nell'epoca in cui è meglio parlare chiaro, è uno scandalo. È uno scandalo per due motivi. Uno, perché come al momento dell'accaduta del comunismo, il segnale che il comunismo poteva cadere in un paese è stato potentissimo per tutti gli altri e dunque tutti gli altri si sono mossi verso la stessa direzione. Il segnale è che la democrazia può cadere in un paese dell'Unione Europea. È un segnale potentissimo, anche se apparentemente l'Ungheria non è un paese di prima fascia, ma il segnale è stato potentissimo e devo dire che in Ungheria la democrazia è caduta e ci sono degli aspetti di quello che succede in Italia che purtroppo mi ricordano l'Ungheria. Noi siamo una piena democrazia, però io vedo gli attacchi alla reputazione delle persone scomode che sono partiti anche qua, come sono oramai la regola in Ungheria. Questo aspetto specifico lo trovo. Allora, è uno scandalo per questo ed è uno scandalo perché la Germania in particolare attraverso i grandi gruppi industriali tedeschi ha imparato benissimo a estrarre tanto valore dall'Europa dell'est in generale, ma in particolare dall'Ungheria e in cambio chiudere un occhio su quello che succede politicamente in Ungheria. Ci sarebbero tante cose da dire, ma ti dico solo una cosa. L'Audi costruisce a Ghior in Ungheria occidentale i motori delle sue auto, la paga di base non arriva al mese a 250 euro, sposta questi motori 600 km a ovest in Baviera, li assembla nelle auto e li poi riesporta in Cina negli Stati Uniti nel prodotto finito con il brand Audi. Bene, l'operaio Audi che sta in Germania, la sua costolordo giornaliero è superiore alla paga di base mensile del suo collega ungherese. Quando la produttività è la stessa, la catena del valore è assolutamente la stessa. Sai quanto paga Audi di tasse in Ungheria? Zero. Zero virgola zero zero zero. C'è chiaramente un accordo, non mi stupisce che Urban non sia stato buttato fuori dal PPE. Queste sono cose che nel libro racconto anche abbastanza in dettaglio e ci impattano direttamente perché stanno da un lato svuotando il ceto medio in Ungheria, perché chiaramente se gli operai guadagnano 250 euro non c'è più ceto medio, ma stanno svuotando il ceto medio anche in Italia perché moltissime imprese finiscono per trasferirsi da qua a là.